Ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it quest'oggi parleremo delle transizioni video e delle transizioni audio in Adobe Premiere vedremo come utilizzarle al meglio, quando utilizzarle e soprattutto vedremo le scorciatoie da tastiera molto utili per accelerare notevolmente il nostro lavoro prima però vi ricordo di venirmi a trovare sul sito internet www.fabioambrosi.it perché qui nell'area dedicata al corso Adobe Premiere trovate chiaramente l'elenco di tutti gli argomenti che abbiamo trattato fino ad oggi e ovviamente potete dare un piccolo sguardo a quello che vi aspetta nei prossimi mesi, troverete anche articoli ovviamente riassuntivi riguardanti quello che ci siamo detti in questi video tutorial. Se avete voglia iscrivetevi anche al mio canale YouTube così da non perdere nessuno dei video di prossima uscita e detto questo torniamo tranquillamente in Adobe Premiere Eccoci tornati in Adobe Premiere, dunque oggi parleremo delle transizioni video vale a dire come creare una transizione, soprattutto cos'è una transizione lo spieghiamo magari perché è nuovo proprio del mondo del montaggio vedremo un attimino di cosa stiamo parlando e soprattutto impareremo ad utilizzare le scorciatoie da tastiera per accelerare notevolmente il nostro lavoro e per applicare le transizioni di default alle nostre clip allora intanto uno sguardo a quello che realizzeremo quest'oggi niente di particolare, ve lo dico subito è giusto un video preparato così rapidamente per poter sperimentare un po' le transizioni però ecco, questo realizzeremo quest'oggi ok, niente di eccezionale, ve lo dico subito le cose più belle magari le faremo nei prossimi mesi magari perché no, realizzerò qualche video, qualche cosa di più carino da montare insieme quando saremo tutti un pochettino più avanti nel corso di montaggio video magari preparerò del materiale anche da condividere con voi in maniera tale da poter dare la possibilità a chi magari non ha una videocamera o non ha tempo, non ha voglia di poter lavorare con del materiale preparato ad hoc per il momento accontentiamoci di questo rapidamente che cosa ho fatto? Ho accelerato una clip, questa prima l'ho accelerata dell'800% fino ad un certo punto, però non tutta ecco, qui l'ho mandata alla velocità normale altrimenti la mia mano sarebbe andata velocissima ho applicato una piccola transizione video una dissolvenza in questo caso ma vedremo tra breve che la dissolvenza altro non è che un tipo particolare di transizione video e chiaramente in coda, cioè alla fine di quest'ultimo blocco ho applicato un'altra transizione video non essendoci più niente dopo chiaramente andrà a nero come si suol dire e anche l'audio l'ho fatto sfumare via così niente di particolare, ripeto, però per chi non ha mai usato Premiere e vuole imparare ecco, queste sono cose che magari possono sembrare molto interessanti facciamo una cosa bellissima cancelliamo tutto, ok? seleziono tutte le tracce, tutte le clip premo Canch sulla tastiera boom, e butto tutto così da poter lavorare puliti e insieme e vedere quello che ho combinato allora intanto scegliamo la prima clip che è questa, ok? l'ho già caricata nel monitor sorgente chiaramente ho già premarcato un in e un out all'interno di questa clip vedete che c'è semplicemente la pezzina che si riempie e alla fine della clip c'è la mia mano che va a prendere la tazzina e la porta via perfetto allora, selezioniamo tutto questo blocco fino al momento in cui viene la mia mano e porta via la tazzina ok? posizioniamoci sulla timeline all'inizio premiamo o il punto, o la virgola, come preferite voi quando non c'è nulla in timeline poco cambia ecco qua la mia clip scivolata nella timeline e aggiungiamo un'altra clip questa per esempio della mia mano che arriva e chiaramente versa lo zucchero nel caffè quindi magari non lo prendiamo troppo indietro prendiamolo ecco dal punto in cui arriva anzi no, prendiamolo indietro così vi faccio vedere una cosa prendiamo un po' più di materiale rispetto a quello che ci serve così vediamo anche un po' il trim in azione ok premo la O di out per impostare il nuovo punto di out sulla timeline mi trovo esattamente alla fine della clip precedente ancora una volta non essendoci nulla dopo posso premere sia la virgola sia il punto come preferite voi ed ecco qui il nostro materiale pronto per essere lavorato nella timeline parliamo delle transizioni oggi come promesso però visto che ci siamo vediamo come accelerare questa clip per poi frenarla all'improvviso lo abbiamo già visto come si accelera una clip non ricordo forse sì in passato quando abbiamo visto un po' di funzioni sulla timeline ad ogni modo se non lo avessimo visto lo vediamo oggi nessun problema io innanzitutto non voglio accelerare tutta la clip voglio che la mia clip vada veloce fino al punto in cui arriva la mia mano e chiaramente voglio mandare la mia mano a velocità normale come fare? perfetto mi posiziono con il cursore temporale poco prima dell'arrivo della mia mano eccoci qua seleziono la clip se non è selezionata sulla mia timeline premo i tasti ctrl k come abbiamo già visto nelle lezioni precedenti quindi se non vi ricordate andate a vedere e a questo punto ho diviso questa che era la clip intera sostanzialmente in due blocchi ok? ora come dicevo io voglio accelerare questo primo blocco e voglio mandare a velocità normale questo secondo blocco molto semplice seleziono il blocco che voglio accelerare tasto destro del mouse seleziono l'opzione velocità durata e mi compare questa finestrella ok? questa finestrella sostanzialmente ci permette di fare diverse cose ma quello che noi vogliamo fare oggi è accelerare la clip di 8, 9 o anche 10 volte allora ricordate che sopra al 100% andiamo ad accelerare sotto al 100% andiamo a rallentare noi vogliamo velocizzare quindi diamo per esempio un 1000% quindi lo velocizziamo di 10 volte vedete qui che viene ricalcolata la durata della clip inizialmente durava tanto durava 40 secondi aggiungendo uno 0 ecco vedete che dura solo 4 secondi non tocco nulla per il momento premo ok e vedete che automaticamente la mia clip viene contratta ok? dura sostanzialmente 4 secondi invece dei 20 secondi dei 40 secondi anzi che era la durata originaria ora devo attaccare questi blocchettini al primo blocchettino velocizzato molto semplice clicco con il tasto destro in questo spazio vuoto accendo la spunta elimina salti e vedete che automaticamente tutto viene compattato all'inizio della timeline perfetto vediamo cosa abbiamo combinato ok se va un pochettino a scatti è normale perché magari la scheda grafica che non fa ecco bene il suo lavoro vedete che fermando e riavviando tutto va benissimo perfetto ed è quello che noi volevamo la prima parte accelerata sostanzialmente e poi all'improvviso arriva la mia mano con calma e prende la tazzina ovviamente i più attenti avranno notato che non ho accelerato solo il video quindi probabilmente io qui se dovessi fare un montaggio video vorrò sostituire questo rumore della macchinetta del caffè che prepara il caffè con qualche altro suono questo poi lo vedremo quando parleremo dell'audio però vi dico già fin da subito che se noi vogliamo rimuovere questo audio che non ci piace possiamo tranquillamente togliere la spunta qui vi ricordate dalla selezione collegata deselezionare tutto selezionare solo la traccia che vogliamo rimuovere in questo caso la traccia audio premere cance sulla tastiera boom e in questo modo posso vedere la mia tazzina riempirsi rapidamente senza il rumore fastidioso della macchinetta chiaramente poi quando ritorna l'audio l'audio viene reinserito immediatamente abbiamo rimosso soltanto il primo blocchettino di audio perfetto possiamo andare avanti adesso con il lavoro quello che andremo a fare adesso è un po' l'argomento della lezione di oggi ovvero andremo ad inserire una transizione video piccola parentesi non è che noi dobbiamo inserire una transizione video per forza se a nostro gusto piace quello che stiamo vedendo quindi in questo caso se a noi piace la scena della mia mano che prende la tazzina la porta via e poi a stacco quest'altra inquadratura della tazzina sul tavolo con la mia mano che versa lo zucchero se a noi piace così nessuno ci può venire a dire nulla in questo caso quando si usa una transizione normalmente una transizione o meglio ancora una dissolvenza nello specifico quella che andremo a fare oggi viene utilizzata quando vogliamo indicare a chi guarda il nostro video un salto o di luogo o di tempo ecco diciamo che questa è una regola che si usa dire si usa raccontare nella teoria classica del montaggio una dissolvenza rappresenta un salto nel tempo e nello spazio avete presente i film specie quelli di tanti anni fa quando una persona si fermava e diceva oh ricordi quei tempi è transizione lentissima e si andava magari indietro di vent'anni o perché no si può andare anche avanti quando finisce magari il ricordo tornare al tempo presente ecco la transizione la dissolvenza specialmente viene utilizzata molto quando si vuole indicare un cambiamento di spazio o di tempo non è una regola assoluta chiaramente le dissolvenze vengono usate forse a volte anche a sproposito però ecco diciamo che tendenzialmente la regola vorrebbe vorrebbe questo in questo caso io sostanzialmente sto facendo vedere la macchinetta del caffè con il caffè che viene servito nella tazzina e poi di punti in bianco vedo la tazzina già sul tavolo ecco secondo me qui una piccola dissolvenzina non sta male prima però voglio ripulirla un attimino questa clip perché vedete se io mando in play c'è questo gesto della mia mano che passa davanti alla camera e probabilmente non è quello che noi vogliamo ma lo faremo tra un secondo la sistemeremo tra un secondo intanto inseriamo la nostra transizione allora innanzitutto le transizioni che cosa sono transizioni come già detto sono degli effetti perché noi possiamo andarli a trovare nella categoria effetti che permettono di sovrapporre due o più immagini allo stesso tempo ok quindi quando parleremo di una dissolvenza andremo a far scomparire un'immagine a far comparire un'altra immagine sostanzialmente sovrapponendole ok però come sto cercando di farvi di farvi capire esistono tanti tipi di transizioni ok e la dissolvenza è solo un tipo di transizione la prova ne abbiamo in Premiere se andiamo a vedere qui nel pannello effetti dove sono collocate le dissolvenze abbiamo tanti tipi di effetti abbiamo chiaramente effetti audio abbiamo effetti video ma guardate cosa abbiamo qua abbiamo transizioni video e abbiamo chiaramente transizioni audio ora ci occupiamo delle transizioni video se io vado ad aprire la cartellina delle transizioni video vedete che trovo un'intera categoria chiamata appunto dissolvenza ecco una prova ulteriore del fatto che una dissolvenza altro non è che un tipo particolare di transizione se io vado ad espandere la cartellina delle dissolvenze vedete che ho vari tipi di dissolvenza ne parleremo poi meglio nella prossima lezione quando parleremo nel dettaglio proprio delle dissolvenze però già contentiamoci di sapere che esistono tanti tipi di dissolvenze ok che vedremo chiaramente anche nelle prossime lezioni e esistono tanti tipi di transizione no catalogate a seconda del tipo per esempio abbiamo delle transizioni chiamate a scorrimento lo vedremo tra un secondo cosa fanno abbiamo transizioni sfoglia pagina abbiamo transizioni a zoom tanto per farvi vedere intanto come si applica una transizione è molto semplice qualunque effetto in premier e in questo caso qualunque transizione può essere applicata cliccando sulla transizione che vogliamo appunto applicare trascinandola nel punto di montaggio in cui vogliamo applicare la nostra transizione vedete io ho preso un particolare tipo di di transizione a scorrimento chiamata divisione clicco sopra al nome della transizione trascino sul punto di montaggio lascio il pulsante sinistro del mouse e vedete che premier mi indica la presenza di una transizione con una sorta di linguetta che va dal blocco A al blocco B questo modo di fare di premier questo linguaggio è il modo che ha premier di informarmi che tra la clip A e la clip B è presente appunto una transizione vediamo cosa fa questa transizione divisione ok mando in play wow ora io vi do un consiglio non utilizzatele mai queste transizioni perché spesso tra i montatori si usa dire che sono un po' un po' pacchiane sono un po' un po' transizioni da matrimonio ecco se dovete fare un matrimonio si utilizzatele altrimenti state molto attenti quando utilizzate questo tipo di transizioni perché sono molto delicate non sempre funzionano come si rimuove una transizione molto semplice selezioniamo questa linguetta cliccandoci sopra premiamo il tasto canch sulla tastiera bam e la transizione è andata via proviamo un'altra transizione giusto per gioco per vedere cosa fanno abbiamo visto la transizione divisione vediamo la transizione scorrimento la applico e vediamo cosa fa ecco qua sostanzialmente la clip B scorre sopra la clip A ecco qua e questo è l'effetto che otteniamo il mio consiglio è di giocare su tutte queste transizioni provatele una ad una e vedete cosa fanno alcune magari saranno carine altre saranno un pochettino più bruttarelle ecco a seconda di quello che dovete fare provatele questo è l'unico modo per imparare a scegliere quale transizione utilizzare ecco questa è una transizione anche qui molto effetto matrimonio mi raccomando state attenti questa è più carina questa è carina per esempio può essere utilizzata a seconda di quello che dovete fare oh se io prendo una transizione e sovrascrivo non è che vado ad applicare due transizioni in una chiaramente vado a sovrascrivere la transizione che era presente prima oh vabbè in questo caso però io eviterei questi giochini particolari e mi concentrerei sulle dissolvenze che forse è la cosa migliore prendo la dissolvenza incrociata che è la transizione che userete più spesso la applico e vedete ecco qua che sostanzialmente la clip B entra sulla clip A con una semplicissima dissolvenza ok fantastico oh i più attenti di voi avranno notato che a fianco alla scritta dissolvenza incrociata c'è un'icona evidenziata che cosa vuol dire icona evidenziata intanto che ha un contorno blu vedete e ancora cos'altro sta ad indicare sta ad indicare che questa è la transizione video predefinita cosa vuol dire predefinita vuol dire sostanzialmente che esiste una combinazione di tasti dalla tastiera che se premuti mi applicano automaticamente questa transizione che è la transizione predefinita vediamo quali sono questi tasti intanto selezioniamo il taglio ok anzi facciamo una cosa riagganciamo chiaramente la selezione collegata così da selezionare in un colpo solo sia l'audio che il video clicchiamo tra le due clip vedete che il mio cursore prende le sembianze del trim clicco esattamente qui in mezzo e il punto di taglio il punto di montaggio diventa rosso a questo punto se io sulla tastiera premo i tasti ctrl d ripeto ctrl d vedete che mi viene applicata una transizione ed è proprio la transizione predefinita di adobe premiere che come potete vedere in questo caso è la dissolvenza incrociata ok come si fa a cambiare la dissolvenza predefinita ecco molto semplice basta scegliere la o meglio come si fa a cambiare la transizione predefinita basta scegliere la transizione che si vuole rendere predefinita cliccare sopra il nome con il tasto destro del mouse e accendere l'opzione imposta transizione selezionata come predefinita ok clicco con il tasto sinistro del mouse e vedete che il bordino blu adesso è su questa transizione esattamente sullo scorrimento facciamo la prova cancello la transizione che era già presente clicco tra le due clip per accendere evidenziare selezionare il punto di montaggio premo i tasti ctrl d sulla tastiera vedete che viene applicata la transizione e per magia ecco qui è proprio la transizione predefinita che io ho selezionato vale a dire l'effetto scorrimento il mio consiglio è di tenere impostata come predefinita la transizione di solvenza incrociata perché è quella che utilizzerete in assoluto più spesso ok però chiaramente se avete esigenza di applicare tante transizioni in un colpo solo magari può essere utile per un momento temporaneamente a scegliere un'altra transizione dicevo che qui c'è un piccolo errore intanto rimettiamo la dissolvenza incrociata come era mia intenzione dicevo c'è un piccolo errore vi avevo detto che qui c'è la mia mano che entra ed è brutta da vedere ok è più bello vedere l'immagine pulita in questo caso per esempio entra in nostro soccorso il trim di cui abbiamo parlato qualche lezione fa premo il tasto B sulla mia tastiera vedete che viene selezionato lo strumento montaggio con scarto che è lo strumento che andremo ad utilizzare mi posiziono esattamente sopra al taglio vedete che il mio cursore diventa giallo clicco con il tasto sinistro del mouse trascino guardate il monitor in alto a destra come mi fa per visualizzare il punto in cui sto andando a trimmare vado un pochettino avanti poco prima che arrivi la mia mano a portare lo zucchero eccomi qua tipo qui quando adesso andrò a rilasciare bam guardate cosa è successo non ho dovuto muovere nulla nella timeline Premiere ha già fatto tutto mi ha spostato la clip trimmandola al punto che io volevo appunto prendere in considerazione me lo ha automaticamente agganciato alla clip precedente senza rimuovermi la dissolvenza ok ed è una cosa fantastica per risparmiare molto molto tempo mando in play ed ecco il risultato arriva la mia mano e sostanzialmente serve lo zucchero nella tazzina io vi ho anche detto che un'altra cosa che andremo a fare in questo video è chiudere il video con una bella dissolvenza cosiddetta a nero se io lasciassi le cose così come sono vedete che finisce il video e va a nero così all'improvviso mettiamo una transizione che mi faccia andare a nero in maniera più morbida appunto mettiamo una dissolvenza controllo che la mia dissolvenza predefinita sia sempre quella e se non l'avete modificata sarà sempre la dissolvenza incrociata selezione l'ultimo punto di montaggio importante torniamo chiaramente nella modalità selezione altrimenti rischiamo di scordarlo seleziono l'ultimo punto di montaggio premo i tasti ctrl d e vedete che viene applicata automaticamente la transizione di default la transizione predefinita di premiere ecco successo e olè finisce il video con una transizione a nero ci siamo occupati solo del video ma vi avviso subito che per quanto riguarda l'audio è esattamente la stessa cosa anzi per certi versi è molto più semplice andiamo a vedere le transizioni audio in realtà c'è poco tra cui scegliere ne parleremo meglio quando parleremo dell'audio il mio consiglio è se non avete particolari motivi utilizzate la transizione predefinita ed è esattamente applicabile come abbiamo applicato prima l'effetto transizione video ovvero clicco sopra il nome della transizione questa volta chiaramente la vado a posizionare sopra l'audio e non sopra il video rilascio ed ecco che qui ho applicato una transizione audio si sentirà poco perché sostanzialmente il rumore di fondo è praticamente identico tra le due tra le due clip però per esempio qui può essere utile mettere una piccola transizione audio perché passiamo da un momento di totale silenzio a un momento in cui invece c'è l'audio dell'ambiente guardate anzi ascoltate vedete che il passaggio è brusco mettiamo una transizione audio ecco qui e il passaggio sarà molto più morbido ole anche qui esistono chiaramente dei tasti di scelta rapida da tastiera da utilizzare per impostare la transizione predefinita del video abbiamo detto che utilizzavamo ctrl d per quanto riguarda la transizione predefinita audio dobbiamo sempre selezionare il punto di montaggio in questo caso vedete che posso scegliere soltanto uno dei due punti di montaggio o audio o video perché chiaramente qui non c'è niente da selezionare posso utilizzare lo shift credo sì per selezionare entrambi ma è totalmente indifferente premo la combinazione di tasti ctrl shift d e come potete vedere premier mi ha inserito solo la transizione audio predefinita quindi per le transizioni video predefinite utilizzare i tasti ctrl d per inserire solo una transizione audio predefinita tasti ctrl shift d vedete ok ma se io volessi applicare allo stesso tempo una transizione audio e una transizione video predefinite è possibile beh assolutamente sì seleziono il taglio in cui voglio andare ad applicare le transizioni sia audio sia video premo i tasti anzi sì i tasti shift d e vedete che premier mi ha applicato in un colpo solo sia la transizione audio sia la transizione video tasti shift d ricapitolando per applicare solo la transizione video predefinita i tasti da utilizzare sono ctrl d per applicare solo la transizione audio predefinita i tasti da utilizzare sono ctrl shift e d per aggiungere contemporaneamente sia la transizione audio sia la transizione video predefinita i tasti da utilizzare sono shift d ok imparateli 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 perché è molto più veloce fare così che andare a scegliere le transizioni una ad una a meno che non abbiate motivi particolari per utilizzare altri tipi di transizioni detto questo mi fermo nella prossima lezione parleremo meglio delle dissolvenze vedremo come utilizzarle e soprattutto vedremo come muovere le transizioni perché può essere utile anticiparle o ritardarle per il momento vi ringrazio commentate questi video se qualcosa non vi è chiaro chiedete tranquillamente se avrò tempo vi risponderò nel minor numero possibile di ore facciamo così ci provo almeno e se volete aggiungere qualcosa fatelo serenamente commentate anche il mio sito internet www.fabbiambrosi.it sotto gli articoli c'è un box dove è possibile lasciare un commento domande richieste fate quello che volete è anche un vostro spazio per interagire e se vi fa piacere volete continuare a seguire questi tutorial e di cose da dire ne abbiamo ancora tante iscrivetevi al mio canale youtube per il momento grazie mille appuntamento al prossimo tutorial ciao